Comunque dice Paolo, è cominciata la stagione, è andata bene, tra i quali inizio potete essere soddisfatti? Nonostante il caldo, nonostante la prima partita, abbiamo fatto molto bene contro un'ottima squadra e dobbiamo continuare su questa strada perché adesso troveremo un avversario ancora molto più forte e dovremo fare attenzione. Sì, abbiamo fatto un ottimo ritiro, sono riuscito ad allenarmi sempre con la squadra quindi mi sento bene, è ovvio che con il passare delle partite sempre la condizione sarà migliore, adesso è difficile essere già ad agosto al 100% però sono sicuro che per il campionato saremo tutta la squadra al top e speriamo di approfittare nel caso mio personale questo tempo in più con la squadra che non ho avuto l'anno scorso. Il momento di squadra è stato molto diverso, tra i 5 e 2 che è stato qualche volta, la filosofia, ma molte volte, come ti stai guardando questo tipo di uomo e soprattutto come è che non lo vede secondo te Gallo rispetto al centro del classico, come si predilige, magari non è un attaccante, quindi di stasera, come potrebbe essere forte Sì, come dicevi tu prima abbiamo fatto qualche volta l'anno scorso con Di Carlo il 3-5-2 e soprattutto alla fine della stagione a volte 4-3-2-1, a volte 3-4-3, dipende, credo che questa squadra ha dimostrato di essere tatticamente intelligente e che si può adattare a vari moduli. In questo caso stiamo giocando con due punti centrali, ma anche giocando con una punta e un altro sotto o due tre quartiste, credo che la idea non cambia, ecco, credo che il mister ha voglia di avere una squadra propositiva, di vedere molti centrocampisti dentro lì a rigore, quindi di spingere tantissimo, di andare alto, non tanto fare un 5-3-2, ma piuttosto un 3-5-2 e giocare con i quinti molto alti, ecco, credo che se interpretiamo bene come vuole il mister possiamo fare bene Sì, sì, è vero, ci siamo trovando bene con Francesco Lo conosco da poco, ovviamente ci vorrà un pochino di tempo, però è un ragazzo forte, un ragazzo che ha già esperienza nella categoria e quindi sono sicuro che sarà facile adattarsi a lui, così come altri, perché non ci dimentichiamo anche degli altri il mister sta provando un po', anche lì a Michievo gli ha provato un po' tutte le soluzioni, quindi penso che lì davanti giocando con due attaccanti centrali dobbiamo essere bravi noi a comunicare bene, a cercare di giocare uno per l'altro per dare, come dicevi prima, profondità all'azione e cercare di dare soprattutto peso in area di rigore Grazie Sì, da questo punto di vista siamo consapevoli che l'anno scorso, parlo da quando ero io, abbiamo preso magari qualche bastonata per sbagliare approccio o per magari cali di concentrazione Quindi quest'anno cercheremo di migliorare questa cosa, di cercare di affrontare ogni partita allo stesso modo La prima è andata bene da questo punto di vista perché nonostante tutto, come dicevi bene, dicevo anche io prima le sorprese ad agosto sono sempre a portata di mano e siamo stati bravi a sbloccare la partita poi a tenere duro, nonostante la preparazione non è ottimale e un'ottima scuola davanti credo che da questo punto di vista siamo partiti col piede giusto Sì, credo che la società sta facendo un ottimo lavoro, sta cercando di mantenere l'ossatura di più esperti e dando spazio anche a tanti giovani, quindi si sta formando, creando un mix tra esperienza e gioventù molto bello anche dal punto di vista non soltanto dal campo ma anche fuori ci stiamo trovando molto bene, stiamo creando un bel gruppo con tanto spirito di sacrificio e per quanto riguarda il mio rinnovo sono molto felice di proseguire la mia storia qui a Spezia perché non ho mai avuto dubbi anche se ci sono stati degli interessamenti di altre squadre ma ho sempre voluto rimanere qui quindi sono felice Sì, sì sempre cerco di dargli una mano soprattutto negli allenamenti ma vedo che sono molto umile sono ragazzi con voglia di imparare ogni tanto ci parliamo cerchiamo di capire che movimenti fare per aiutarci l'uno all'altro parlando anche in questo modulo che dobbiamo giocare uno per l'altro sicuramente la comunicazione ci deve essere ci deve essere durante la settimana qualche parola in più, qualche aiuto in più quindi li vedo molto bene li vedo con voglia, umili e penso che potranno fare bene No, differenze diciamo che è un allenatore nuovo è la sua prima esperienza in Serie B e noi cercheremo di fare del nostro meglio per far sì che possa fare un'ottima annata è un allenatore che ci dà tanta serenità ci fa lavorare tranquilli stiamo cercando di fare le cose che ci chiede penso che pian piano con il tempo ci conosceremo di più ma per ora il primo impatto è stato molto positivo e spero di dargli una mano sia me che tutta la squadra per far sì che la sua prima stagione sia positiva e poi ci chiede a te l'anno scorso si è stato un protagonista che è un mitico, non vuole tutto, l'ottima domanda si è caricata l'anno passato sono due due quali che ci potrebbero stare e quest'anno c'è qualche cosa che è uscito da adottare per fare di nuovo quello del periodo di insomma che è un grande esperto su questo punto di vista spero di avere un po' più di fortuna da questo punto di vista perché sono stati due gol regolari che avrebbero cambiato la classifica nostra dell'anno scorso però è inutile soffermarsi su quello che è successo bisogna andare avanti questa è una stagione in cui sono più vicino a un bel obiettivo che punto da tanto che sono i 100 gol in serie B e quindi è già a 92 e quindi spero di arrivarci ovviamente sempre passando da dal risultato della squadra pensando sempre alla squadra ma personalmente mi piacerebbe tanto arrivare quest'anno il primo impatto è ottimo perché vedo ragazzi con prospettiva diversi uno dall'altro perché tutti quelli che mi hai nominato hanno tutti qualità diverse penso che il mister a disposizione è un bel mix da scegliere perché possiamo giocare Piccolo ti dà la Antonio ti dà le soluzioni per mettere un trequartista possiamo giocare con lui dietro la punta possiamo giocare con due centravanti di ruolo con due trequartiste anche volendo inserendo anche Beppe come è successo l'altro la partita scorsa quindi penso che il mister ha tanta disponibilità e vedo veramente dei ragazzi come dicevo prima umili e che secondo me hanno un ottimo futuro Sì è vero sono arrivati due giocatori con tanta esperienza non solo in Serie B ma soprattutto Capelli ho avuto l'opportunità di giocarci con lui a Cesena un anno e mi ha fatto un'ottima impressione dal punto di vista umano non è a caso che è stato un capitano anche dell'Atalanta quindi penso che ci darà una grande mano sia lui che Nicolas che viene da una vittoria in campionato e sono tutte cose positive che possono aiutarci dal punto di vista non soltanto calcistico ma anche mentale come parlavamo prima a livello di approccio a livello di concentrazione e su questa cosa bisogna approfittare un'ottima cosa non possiamo parlare di un'ottima cosa che sarà la prossima spesa di San Suolo già stanno le ultime imprese per esempio di una situazione che ha possiamo pensare di un'ottima cosa che è un'ottima cosa anche di un'ottima cosa sì credo che il fatto che siamo ad agosto e magari anche loro non saranno nella sua forma migliore penso che sapendo le distanze che ci sono tra le rosse penso che le possiamo accorciare con lo spirito sacrificio sapendo che dobbiamo correre tanto perché è una squadra che gioca molto bene però lo Spezia ha dimostrato negli ultimi anni che la Coppa Italia fa bene riesce a fare i brutti scherzi quindi speriamo di andare a Reggio Emilia a fare una bella partita e che ci serva anche per il campionato